Il primo obiettivo L'amministratore delegato Aurelio Latella ha invece ripercorso i passi fatti per mettere a sistema tutte le risorse aziendali così da rendere economicamente interessante l'attività della società evidenziando le peculiarità locali che hanno indotto Seleco a venire a Trieste. La scelta è dovuta dall'offerta al territorio, tutto però non soltanto triestino, dal lavoro fatto dalla classe politica che ha messo a disposizione delle aziende questo genere di benefits e anche da un'analisi di quelle che sono le dinamiche logistiche che insistono su questo mercato e di quello che offre in termini competitivi per cui si è deciso di spostare un'azienda già esistente e operante in Lombardia a Trieste. Trieste è al centro di una crocevia importantissima dal punto di vista logistico, terra-mare unico probabilmente e quindi questo non può fare che far ben sperare anche per l'interesse di altre aziende. Di piazza non ha mancato di ringraziare la regione e il presidente dell'autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino sottolineando come questo risultato dimostri quanto sia importante lavorare tutti assieme e ha proseguito il primo cittadino l'arrivo di Seleco rappresenta una grande opportunità. Oggi il primo passo mi fa molto piacere perché veramente questa è una cosa dedicata ai nostri ragazzi, poi ci sarà una fase successiva dove ci sarà anche la ricerca e sapete quanto ci tengo ai giovani alla ricerca a fare questo della mia città, una città importante, non siamo una città solo industriale ma siamo una città della scienza, una città della ricerca per cui un valore aggiunto.